Ottobre alla spezia diventa il mese del libro con la decima edizione di Libriamoci che quest'anno si presenta più pura e completamente rinnovata nel format. Abbiamo voluto cambiare, cambiare per migliorare, dedicare un mese intero ai libri. Ottobre è un mese che viene prima del teatro, all'inizio del teatro, dove anche lì faremo un approfondimento di grande livello culturale quest'anno e abbiamo deciso di chiamare grandi autori. 22 appuntamenti per tutte le età, chiaramente, a partire dai grandi temi. Temi della famiglia, temi dei ragazzi, di come comunicano, di come cercano di vivere la contemporanea età, ma anche l'ambiente. Oltre a questo, come oggetto, chiaramente per quanto riguarda i bambini, i ragazzi come sempre e poi i temi anche sul fumettismo. Poi ci sarà anche un viaggio nel tempo, nel passato, il viaggio nel risorgimento, viaggi un po' nelle storie che ci hanno visto coinvolti a torto collo, ad esempio nelle guerre religiose. Insomma, veramente un mese di attenzione e riflessione, ma anche di divertimento. Con i suoi 22 appuntamenti la manifestazione toccherà diverse sedi, la Mediateca regionale di Via Firenze, la Biblioteca Mazzini, la Beghi e l'ex deposito Fitram, dove una mostra di Enrico Amici racconterà l'evoluzione delle strutture bibliotecarie della città. Libriamoci alla portata di tutti, ma ci sarà grande attenzione, soprattutto per i giovani. A partire dai bambini ci sarà un incontro importante, la presentazione di un libro che invita al rispetto del mare e della natura, un tema quindi molto attuale, trattato in forma molto ironica dall'autore Fabrizio Altieri, che ha scritto La balena in scatola. Poi ci saranno tre laboratori didattici per i bambini, sempre anche questi tematici, che si svolgeranno nello spazio bambini della Biblioteca Beghi. Poi ci saranno gli incontri dedicati agli adolescenti, con Pietro Vaghi, che parlerà appunto della comunicazione e della scrittura, e con Stefania Rossi, una psicologa che ha scritto un libro interessante, La mente dietro la fame, per affrontare appunto il rapporto con il cibo che hanno in particolare gli adolescenti non sempre molto corretto, insomma. E questi si svolgeranno all'auditorium della Biblioteca Beghi. E poi incontri per invece gli studenti più grandi, delle scuole superiori, con Alberto Leoni, che parlerà della storia delle guerre di religione, che purtroppo sono costantemente presenti nella storia dell'uomo. Grazie. Grazie. Grazie.